Mi è capitato di recente di visitare in studio una persona venuta per un semplice controllo, nessun sintomo riferito, se non fosse che al termine della visita abbiamo scoperto che in realtà questa persona aveva avuto un infarto, di cui non era assolutamente a conoscenza. Questo dunque è l'argomento di oggi, segui questo video fino alla fine se vuoi saperne di più sull'infarto silenta. Io sono Nicola Triglione, medico cardiologo ed esperto di prevenzione e ogni settimana pubblico sul mio canale un nuovo video per aiutarti a comprendere e a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Quindi se sei interessato a questi argomenti ti consiglio di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Tutti conosciamo i classici sintomi dell'infarto, quindi dolore al petto, pressivo della durata di almeno 10 minuti, che può essere accompagnato da irradiazione alle braccia o al giugolo, mancanza di fiato, nausea non spiegabile in altri modi. Nel video di oggi però non voglio parlare della presentazione classica dell'infarto, ma voglio soffermarmi su una categoria particolare, quindi l'infarto silente, che in base ai vari studi in realtà interessa una percentuale non trascurabile, che va dal 10 al 25% di tutti gli infarti. E capite bene che siccome stiamo parlando di una problematica che ad oggi in Italia interessa 120.000 persone all'anno, i numeri non sono così tanto da trascurare. Quindi attenzione, mi raccomando, se siete interessati all'infarto silente, prestate attenzione a tutti i dettagli, a tutte le informazioni condivise oggi. Quando parliamo di un infarto miocardico parliamo in poche parole di un danno a carico delle cellule miocardiche in seguito alla prolungata mancanza di ossigeno. La causa principale è la trombosi coronarica, quindi la conseguenza di una rottura di una placca aterosclerotica preesistente. È responsabile di una occlusione che impedisce il passaggio di sangue a valle di questo blocco. Come già detto, questo fenomeno avviene in corrispondenza delle coronarie, cioè quei vasi arteriosi che si estendono sulla superficie del cuore e che portano il sangue appunto al muscolo cardiaco. Dopo i classici cenni teorici e anatomici possiamo introdurre meglio l'argomento di oggi. Infatti quando l'infarto coinvolge solo una piccola parte di tessuto miocardico si può verificare il cosiddetto infarto silente. Vuol dire quindi che non dà sintomi, non si presenta con i sintomi classici e soprattutto tutto riguarda, in base ai vari studi, una percentuale che va dal 10 al 25% di tutte le diagnosi di infarto. Infatti una cosa importante da sottolineare è che non tutti i pazienti affetti da infarto hanno la presentazione classica, ma ci sono anche dei cosiddetti sintomi atipici, ad esempio una grande stanchezza quasi invalidante, dei sintomi para-influenzali, oppure nausea isolata in assenza di particolari motivi. In particolare una serie di studi hanno fatto luce anche sulla statistica di cui abbiamo parlato. Infatti si dice che circa nel 50% dei casi di tutti gli infarti silenti in realtà non ci troviamo di fronte ad una persona totalmente asintomatica, ma che di fronte ad un'interrogazione migliore e più approfondita ci dice di aver avuto alcuni dei sintomi atipici. Quindi magari una sintomatologia vaga e aspecifica che non è, in prima ipotesi, correlabile ad una problematica acuta del cuore. Dobbiamo anche parlare di due categorie specifiche che sono a maggior rischio di sintomatologia atipica e quindi a maggior rischio di infarto silente. Parliamo in particolare delle donne che presentano più frequentemente degli uomini una manifestazione sfumata con dei sintomi atipici, anche lievi, delle malattie cardioscolari in fase acuta. E parliamo anche delle persone affette da diabete perché nelle fasi avanzate della malattia troviamo una conseguenza chiamata neuropatia, che altera quindi la sensibilità dolorifica e rende meno riconoscibili i sintomi tipici. In tutti i casi comunque un infarto silente rappresenta un importante campanello d'allarme perché obbliga a cominciare un percorso che prevede l'utilizzo di farmaci, una serie di controlli approfonditi, la modificazione dello stile di vita, in quanto chi ha una storia di infarto silente ha una probabilità di tre volte superiore di avere un secondo evento cardiovascolare. Quindi come si diagnosticano gli infarti silenti? Ce ne accorgiamo a posteriori, soprattutto nel setting di una visita con esecuzione di elettrocardiogramma notando appunto nel tracciato ECG la presenza di peculiari onde Q che definiamo patologiche. In presenza di queste alterazioni, soprattutto dopo la conferma diagnostica che solitamente si fa con l'esecuzione di una risonanza magnetica cardiaca, se la persona non ricorda di aver avuto un infarto poniamo diagnosi di infarto silente. Ma visto che generalmente parliamo di una piccola porzione del cuore, quanto è impattante questa problematica sul rischio cardiovascolare ad esempio dei dieci anni successivi? Infatti se ho scelto di parlare di un determinato argomento con un video è perché penso che non ci sia una spiccata consapevolezza relativamente ad un certo tema. Infatti gli studi ci dicono che nella decade successiva a quella di un infarto silente la probabilità di una morte improvvisa cardiaca è tre volte maggiore e questa statistica quindi ci impone a mettere in atto tutte quelle strategie di prevenzione secondaria a cominciare dalla terapia passando per la modificazione dello stile di vita e l'utilizzo di esami diagnostici per un regolare follow up cardiologico. Un'altra temuta conseguenza dell'infarto silente è l'aumentata probabilità di andare in contro ad un'altra diagnosi cardiologica, una diagnosi di scompenso cardiaco, cioè la riduzione della funzione di pompa cardiaca e tra i principali sintomi troviamo mancanza di fiato sia a riposo che sotto sforzo, gambe gonfie e grande grande affaticabilità. Come già detto, ma non mi stancherò mai di dirlo, tutte queste persone oltre all'adeguata terapia cardiologica hanno bisogno di una modificazione dello stile di vita per ridurre il rischio cardiovascolare futuro, ma per fare tutto ciò bisogna prima avere consapevolezza di un problema. D'altronde essere a rischio e non saperlo non è il massimo per la prevenzione cardiovascolare. Come diceva una nota scrittrice, possiamo ignorare la realtà ma non possiamo ignorare le conseguenze dell'ignorare la realtà. Della serie possiamo identificare gli infarti silenti e possiamo ridurre il rischio cardiovascolare di queste persone, ma non possiamo fare tanto se non sappiamo appunto qual è il reale rischio di queste persone, se non sappiamo quali sono le persone a rischio. Per oggi è tutto, come al solito aspetto le vostre domande e considerazioni tra i commenti per un confronto su un argomento che sicuramente merita una maggiore attenzione e consapevolezza da parte di tutti.